La digitalizzazione è un fenomeno inarrestabile e ce ne siamo accorti anche nel mondo della gestione dei rifiuti perché le continue modifiche alla normativa e tutte le richieste che arrivano dagli operatori di settore obbligano necessariamente ad andare verso una tecnologia che sia la più evoluta, la più sicura, la più efficiente possibile e questo è il motivo per cui ci siamo mossi verso un ambiente che è un ambiente di tipo cloud. Il vantaggio di poter operare poi in cloud è un vantaggio che è legato al fatto di poter usare direttamente dei terminali che sono più adatti ad esempio al lavoro in mobilità piuttosto che poter lavorare ad esempio da casa, per non parlare poi della sicurezza e del fatto che ci si rivolge esclusivamente al proprio core business e non è necessario occuparsi degli aspetti diciamo marginali per un'azienda che non si occupa direttamente l'informatica ma ci si occupa esclusivamente della parte che riguarda appunto il proprio business. C'è da dire una cosa che malgrado questi vantaggi che sono assolutamente evidenti la realtà è che oggi una parte del mercato ha ancora un po' di timori nel collocare il proprio business all'interno di una nuvola non tenendo presente che in realtà però questa nuvola ha tutto un insieme di aspetti positivi la sicurezza del dato che è ultra garantita proprio per questo noi abbiamo scelto un partner che come noi va verso una sostenibilità ambientale certifica che le fonti energetiche provengono da fonti rinnovabili che i dati vengono gestiti in modo sicuro protetto e per questo abbiamo scelto Aruba. Per tutti questi motivi potete venire presso Ecomondo il 10 novembre alle ore 10 e 30 vi faremo toccare con mano che cos'è la nuvola cos'è il cloud che noi operiamo e saremo assieme alla sales manager Carlo Nordio di Aruba che ci permetterà appunto di capire meglio quali sono le tecnologie che adoperiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.